Buongiorno e benvenuti in un mio nuovissimo video Il mio nome è Dennis, sono alto 1,90m Se volete altre informazioni sulla mia carta di identità Vi consiglio di aprire la descrizione Che le troverete tutte Ma in più troverete anche lo shop delle mie Sinafelpe, tutti quanti gli accessori che uso nella mia vita quotidiana E che mi chiedete molto spesso Ma soprattutto i miei social network migliori Sono strafelice di essere tornato in HD Infatti a riprendermi c'è la mia amatissima Blogging cam Appena tornata fresca da supporto E che culo non ho dovuto Dagli 5 centesimi Ieri è uscito il secondo episodio dell'Elefante and Dreffel E mi fa un gran piacere che la maggior parte dei commentatori Non abbia capito una stramin di quel video Infatti ieri in effetti ero un po' depresso Ma il giorno dopo come vi consiglio mi passa Oggi sono qui per realizzare il desiderio più grande Dei miei direct su Instagram Che mi iscrivete tutti quanti i giorni Il tema in questione è E così da bravo Creator content creator Youtube Ho creato questo video pronto per essere salvato da tutti quanti voi La nostra amica con la frangetta ormai ci ha abbandonato Io spero che questo video extra vi piaccia Questo collage vi piaccia Scrivetevi infatti nei commenti qualche vostro pensiero E vi lascio al degrado più assoluto In questa giornata di Vicenza e Piovosa Mi sto preparando per l'Elefante in Dreffel Dove ci sarà naturalmente pioggia e neve Che scende giù da il cielo E alle 6 e mezza esce un nuovo video EZE TRIPPOLO Adesso che ho finito di fare la cacca Volevo dirvi che sul canale di Telegram Ho appena pubblicato un post Dove vi spoilerò il video di oggi Per entrare nel gruppo di Telegram Swipe up in alto Un nuovo video online EZE SEPPRE PIU TRIPPOLO Tre minuti, solo tre Minuti per parlarti di me Forse basteranno a ricoprire come se Io dovessi mostrare di me Quello che ancora no Non sono stato mai Mi stavo ponendo un Quesito molto interessante Se noi ci riferiamo a un contesto in generale ZE TRIPPOLO Però in effetti Se noi stiamo tribolando in questo momento Possiamo dire che EZE TRIPPOLING Ciao a tutti Sono qui in Germania Per l'elefante in Dresden E anche qua in Germania EZE TRIPPOLO Però in realtà Vi ho detto una cazzata Perché non sono in Germania Porca puttana Però in realtà Vi ho detto una cazzata Perché non è che sono proprio in Germania Sono ATTURMESBRANG E se ancora non l'aveste capito EZE TRIPPOLO Ciao Sono sempre io E volevo riferire a tutte le persone Che sono andate in Veneto Che se scrivo ZE TRIPPOLO Con la S E non con la X È perché non tutti riescono a capire Che la X è ZE Per noi veneti ZE TRIPPOLO Non O se facci solo dal Veneto Anche da tutta Italia E non lo capiscono EZE TRIPPOLO La cucarazza La cucarazza Ta 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 I TRIPPOL女 I TRIPPOLI I TRIPPOLIN La 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 We out It's a way Non ci credo M'hanno tolta la bambina Bridgestone Olio E ZE TRIPPOLO Mi manca tanto la francesza Mi ricordo quella volta in cui tribovavo con i miei 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 E la scena tribollazione Ide ire 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 We are no Sit down please We are no sit down please today it's a triboling day and today at 18.30 esce il primo video levante il terzo sapete come si chiamano le lenzuole in dialetto veneto l'insoli l'insoli l'insoli